salve a tutti amici bentornati qua sul canale il contastorie io sono sempre angelo e oggi parliamo di un film divenuto un cult e se io vi dicessi villa scialoia ma vaffanculo te vi la scialoia ecco appunto compagni di scuola film del 1988 e nasce da una bizzarra avventura vissuta proprio da carlo verdone l'attore romano era stato invitato ad una scena di compagni di classe era andato ovviamente insieme ad un altro suo compagno di classe nonché amico christian de siga fu per entrambi un'esperienza triste e da questo fatto perdone ne tira fuori un film eccezionale tanto per comicità quanto per l'atmosfera grottesca federica affascinante 35 anni abbandonata dall'anziano e ricco amante che l'ha mantenuta per anni decide di organizzare un incontro con i suoi ex compagni di liceo la rimpatriata prende sin dall'inizio una piega malinconica molti ex compagni infatti riveleranno le loro frustrazioni fallimenti che la vita ha riservato loro fino a quel momento tutti quanti sono in qualche modo peggiorati chi economicamente che moralmente che fisicamente la galleria di personaggi eterogenei il professore di liceo in crisi esistenziale di mezza età con un amante giovane l'arricchito spaccone l'artista fallito la femminista arrabbiata il politicante a rivista non manca chi nella vita ha avuto un'esistenza senza luci né ombre non furono però soltanto le tematiche trattate a fare di questa pellicola un successo ma giocarono anche un grosso ruolo alcune interpretazioni veritiere e magistrali di alcuni attori pensando a questo film non possiamo ricordare fino a chiaro che con tutta la sua spocchia baldanza e prepotenza distrugge in poche battute il povero Fabrice colpevole soltanto di essere cambiato nell'aspetto con gli anni Fabrice fa molta tenerezza fin da subito ci riporta con poche semplici parole al periodo della scuola identificandosi con finocchiaro che non lo riconosce dicendo ma sì fabrice primo banco a destra finocchiaro subito lo demolisce con poche parole e mostrando che tra scorsi 15 anni lui ancora ha un popolino ma ovviamente reso merito ad angelo bernabucci e fabio traversa che in questa scena ed anche in altre hanno saputo costruire due caratterizzazioni perfette per angelo bernabucci si trattava poi di un vero e proprio battesimo del fuoco nella recitazione e nel cinema bernabucci non era un attore ha avuto la fortuna di conoscere per caso carlo verdone vivevano nello stesso quartiere e spesso si incontravano al bar oppure dal meccanico proprio in quell'officina carlo verdone chiese a bernabucci se volesse far parte di un film a verdone serviva proprio la figura di un romano un po greto e pesante e la voce di bernabucci rispecchiava questo aspetto bernabucci mise in chiaro il fatto che non avesse mai lavorato nella recitazione ma verdone lo rassicurò sul fatto che avrebbe dovuto soltanto essere naturale e tutto sarebbe andato per il meglio così fu le battute di finocchiaro nel film sono tutte da ridere e costruiscono al massimo un personaggio arricchito negli anni ma rimasto borgataro da contraltare a questo personaggio si pone il personaggio di toni brando artista a sentire parlare lo stesso brando che sembra aver avuto molta sfortuna nel mondo dello spettacolo e che cerca in tutti i modi di sfruttare questa rimpatriata per guadagnare qualcosa oppure proporsi per lavori nel mondo della tv christian desiga rende tutta la pochezza di questo personaggio arricchendolo di grazia e di modi di fare che sembrano rispecchiare le esperienze di toni brando tradendo però un periodo di crisi nera memorabile il tentativo di toni brando di vendere un dipinto a finocchiaro mentre da un lato si elargiscono nozioni di arte valutazione artistiche ed economiche dall'altro non c'è altro che un'ignoranza artistica ma una praticità economica che neutralizza il tentativo di vendita altrettanto memorabile il momento dei soldi rubati a finocchiaro sono sparite 400 mila lire che lamenta di avere del denaro in giacca alle dichiarazioni di finocchiaro tutti allibiscono sostenendo che tra di loro non c'era sicuramente un ladro ma poi l'attenzione si sposta su toni brando pure a voi sono sparite 400 mila lire finocchiaro ma perché ci hai presi ma avete catturato quattro piotte sarei tutti bravi grazie va bene la serata ma dai finocchiaro che dall'inizio dell'incontro non fa che musinare aiuti un po da tutti perché guardate tutti a me in particolar modo dall'onorevole valenzani interpretato da un giovane e bravissimo massimo ghini anche questo è un personaggio con una caratterizzazione poco felice in questo turbinio di personaggi di sogni mancati e di vite realizzate oppure no si colloca un duo veramente divertente rappresentato da alessandro benvenuti e morizio ferrano i personaggi da loro interpretati armando l'epore e lino santo lamazza organizzano uno scherzo tragico ai danni dei loro ex compagni di classe riportando di un vecchio incidente dal quale il povero santo lamazza è venuto fuori su una sedia a rotella e con gravi disabilità fisiche questa condizione impone ai due di stare sempre insieme in modo che l'epore possa sempre aiutare santo lamazza ma permette ai due tramite le parole sempre perdonate per evidenti motivi del povero disabile di potersi prendere il gioco di tutti gli altri nella scena in cui finocchiaro informa gli altri del furto dei soldi nessuno ha il coraggio di accusare tony brando anche se tutti lo osservano annuendo il fatto che potrebbe essere stato lui soltanto santo lamazza sarà colui che apertamente chiederà spiegazione a tony brando la messa in scena orchestrata dai due però non reggerà fino alla fine della riunione dei compagni di classe e addirittura si ritorcerà contro al personaggio interpretato da alessandro benvenuti tra l'altro verdone racconta che la sequenza in cui desica viene accusato di un furto ai danni di bernabucci finocchiaro è chiaramente ispirata ad una scena del film il bidone di fellini la pellicola è un gradevole susseguirsi di avventure ed episodi che sicuramente ci riportano alla memoria gli anni della scuola e la combricola più o meno simpatica della classe questo momento di nostalgia lascia poi il passo ad una malinconica analisi dei destini dei vari personaggi calando un po il velo pietoso su quelli che possono essere i sogni mai realizzati dei liceali oppure sulla stranezza della vita e su come possa cambiarci fisicamente e sul modo di vivere anche per oggi è tutto amici io vi ringrazio di essere stati un po in mia compagnia un po in compagnia del contastorie vi ricordo di scrivervi se non l'avete fatto di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sulle novità e di lasciare un bel pollicione tanto è gratis io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video e ricordate ogni storia è un viaggio